bentornati blue cleaners di tutto il mondo oggi voglio parlarvi di un problema universale vecchio come l'invenzione della ruota anzi delle quattro ruote chi di voi non si è trovato con il disagio di avere l'interno dell'auto sporco e tutto impolverato ma è proprio in questi casi che entra in gioco mister blue clean questa missione ci serve aspiratore solidi e liquidi aere blue clean bocchetta per fessure e spazzola per tappezzeria non perdiamo altro tempo e andiamo e anche questa missione è stata vinta da mister blue clean mi raccomando se vi è piaciuto il video mettete un bel like iscrivetevi al canale ciao dal vostro affezionato mister blue clean ciao